ci vedremo le partite a mezzanotte faremo il video a mezzanotte lascio fino a quando lo vedrete sono le 1 da notte e che sia la canzone ringraziamo prima di tutto la lega per questi orari straordinari detto questo io volevo capire una cosa voglio io volevo capire una cosa ma è possibile cane ogni volta ogni volta che ama fei il salto di qualità quel definitivo e definitivo il capo si parla di battere la spalla di fare tre vittorie consecutive che stiamo avvenendo dei partiti consecutivi che stai facendo il salto di qualità stavi facendo diciamo un piccolo piccolo filotto di partite e invece no invece no per fortuna guarda mi sono messo questa maglia addosso solo perché siamo riusciti almeno a salvare la faccia e a beccare un pareggio negli ultimi minuti perché sennò io questa maglia nemmeno me la mettevo qua oggi venivo con la canottiera con cui ho visto la partita perché voi state voi state già in vacanza con la canottiera con la canottiera addosso cioè io voglio capire ma è mai possibile che noi non riusciamo mai a fare tre quattro cinque vittorie consecutive ma insomma hai battuto la roma una volta tanto che hai fatto un risultato importante c'hai l'opportunità di giocare contro l'ultima in classifica e di fare un piccolo di fare un piccolo step verso questa classifica di merda che stai facendo che ogni anno dobbiamo sorbirci e sistematicamente stecchi la partita sei riuscito a prendere due gol dalla spalla ultima in classifica non sei riuscito a fare un tiro in porto un gol per 70 80 minuti di partita contro una squadra che stava giocando in dieci dal cinquantesimo dal 45 da c'è cazzo da mani tra state esposto il cristiano ma come cazzo ce la faccio ma come ce la faccio hai avuto la fortuna che ha fatto quello fallo e per fortuna una volta tanto il VAR se ne ha avvertito e l'ha buttato fuori che ha fatto in un fallo ma ho già spazzato una gara ci stava detto già aveva cercato l'occhio la cosa purga ma di chi è mai è possibile ma è possibile che siamo stati fino all'ottantesimo per fare un gol abbiamo fatto una cosa come 25 30 tiri in porta ma un'imprecisione un'imprecisione incredibile non c'è la porta ecco se ho avuto il cacchetto ecco se ho avuto il debole ecco se è molto portato ecco se ho avuto il terzo anni e la cross che avete fatto con se le macchie sale in macchina sale tabacca come cazzo ti chiamo ma io posso capire di sbagliare una volta la cross ma frittamente si sbagliate quattro occhi ma non che si sbagliate la cross dalla faccetta all'altra faccetta del campo ma guarda che non è facile fare quel tipo di cross caffetti io cioè io quel poco che ho giocato al campo sportivo ma la palla mi arrivava da una vana all'altra del campo ma come ce l'ha fatto a darmi la palla da che domani ogni volta che il dinaro di rigore di aspettare un cross la palla la premava la scondava la terza vanna ma vuoi dire se è un petto è una cacchuga in Milano e ti hanno riscattato per io c'è ufficiale il riscatto di sale makers e ci hanno visto vanna riesce a fare tutti i ruoli no ma tu dici a te non devi fare niente non devi fare niente proprio cosa si è fatto? chi è che sappia fare niente di tutto alla fine non devi fare niente fai una cosa buona e fai la buona ma 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 io ma non è possibile da avere non è possibile da avere e per fortuna che per fortuna poi alla fine abbiamo riusciuto a fare chiedere il gol e non ne hanno regalato questo se no noi potremmo stai fino a venire che non lo facciamo anche se ho detto è un'imprecisione incredibile ma il gol sbagliato da tutta la mano per la palla di capo la palla di capo la palla di capo la palla di un gol ma davvero ma voi vi rendete conto ecco perché stavamo iniziando a sentire che c'erano delle voci che iniziavano le persone a dire ma non è che stiamo sbagliando a mandare via Pioli ma non è che dico caro Pioli io sono uno che ti ha difeso sono uno di quelli che ti ha voluto bene che ti vuole bene sino a Cristiana per bene sino a Cristiana post bene o male un mestir teosefe però fretta me nel momento in cui dobbiamo fare ogni volta quello step successivo per fare qualcosa di davvero importante ogni volta la sbagliamo la partita è sistematica la cosa e allora una vuol dire che non si buono Matteo perché questa cosa è qui la mentalità della squadra qua se non riusciamo ogni volta a migliorare questa mentalità noi non riusciremo mai ad avere una classifica migliore di queste settimo ottavo sesto ottavo nonno sesto settimo perché qui non riusciamo ogni volta a fare la partita decisiva a vincerla non è possibile ma sono stangheita ma sono stangheita di queste due a mezzanotte dove fai sempre sti sceneggiati ma sono stangheita pure le frecce sono appiccate non è possibile sto fatto qui non è possibile Rebic oggi ho visto il Rebic che ho visto all'inizio del giocatore inguardabile che ho visto all'inizio dell'anno hai avuto senza esagerare almeno 3 4 palle e questo l'hai cercato e questo l'hai sciccato e questo l'hai sbagliato e questo è debole e fredda me è purtroppo è purtroppo è purtroppo oggi l'unico veramente a cui non posso dire niente è Cialanoglu che ha giocato bene ha fatto tante cose ha fatto il gol che ovviamente gli hanno annullato stava il fuorigioco è il fuorigioco oggettivo quando ha un l'unico da fuori e fuorigioco oggi è andato tutto 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 storto fino a quando non abbiamo fatto chiedere due gol che abbiamo chiesto andato uno le ha è stato bello un bel gesto tecnico eccetera va bu ma c'è mamma ma non non c'è la porta ma quanti cazzo di gol vi siete frecati oggi quanti ne avete sbagliato ecco pochetta ma sei sempre il solito vanna non sei mai cattivo sotto la porta voglio ti ho detto buco è troppo brasiliano nel senso che io sì sì non capisco la chiacchiera proprio vanna te ne avrò c'è curgian ball tutto fatto io ma che dà caso la cosa che sei troppo brasiliano la chiacchiera se fosse la sostanza d'oste adoste la sostanza arriva nella porta e fai la giocata e fai che se fai che salta e arriva nella porta per fai un gol e chi si tira debolo c'è chi si tira da che se stella parla sopra a destra te la dà a mezzo posto niente vanna te ho sciocchi in serie a sciocchi in zona milano ti l'amma il numero 10 del brasile e non c'è tre che tu ti è dolpito e fredda me c'è cazzo sta presi in da fe ma dove si è visto mai che un giocatore di questi livelli non sa calciare con tutte e due le gambe oh ma c'hai te volete tacchiando pallone ogni c'hai te poi odio questi tiri alti odio questi tiri alti buona vendù si traccia siamo nei due perdite da che se ma che cazzo stavano verde lo cugno stavano calpallone uscevano da che se ogni volta ma c'hai te volete tacchiando pallone ogni ecco benassere ho preso una decisione definitiva su benassere ora vi diciamo arriva una offerta di 40 milioni in caso veloce non siamo andati, non siamo scriviti di qua dobbiamo ripartire bene la salla questo è un altro cacchiacchio giocatore è proprio sopravvalutato sbaglia mille passaggi a partita spesso e volendo dire deadlman sapete che significa deadlman quando uno è stupido che sbaglia le cose proprio banali c'è a livello proprio mentale deadlman ogni tanto andrà e si costa nel supporto poi un'altra cosa più lì c'è t'aspettiva metti braimo vedi c'è t'estiva e t'estiva e stia per 2 a 0 e t'estiva e qua no da metti zocano alla fine siamo riusciti a fare due gol come con cazzi a ii ma comunque li hai fatti perché eravamo tutti lì la premla sconda la terza volta la quarta volta le cose possono andare in questa maniera qua se tu non li metti dentro i giocatori mettili stai perdendo 2 a 0 con la spalla in 10 che cazzo aspetti ma ci ha spitto a metterlo su qua a te che non ha fatto il gol cioè io veramente a volte veramente vi complicate la vita adesso teo hernandez vabbè quello sicuramente si sarà fatto anche male ma non fai più una sgruppata come si deve come ci hai abituato con la roma qualcosa l'avevamo visto ma spesso e volentieri ti vedo capire la palla passando rete c'è stia perché è un fiat della massa di riccardo rodriguez stia perché a volte passa la palla andretta e volete per questa mattina cioè io veramente io non lo so guanni io non lo so io non lo so come cazzo dobbiamo fare ogni volta che dobbiamo fare una partita per fare l'ennesima partita l'ennesima vittoria una cosa da te la sbagliamo sistematicamente con la spalla e ora? e ora c'è la Lazio c'è la Juve c'è la Cunapo quindi praticamente per l'ennesima volta ci siamo rovinati quel poco di buono che avevamo fatto che sia la sostanza della storia? è tutta la stagione che va avanti così che nel momento in cui dobbiamo fare qualcosa di più sbagliato sistematicamente ma sono stanco di vedere queste cose qua sono sta ripeto mi sono messo questa maglia oggi solo perché abbiamo salvato la faccia perché perdere oggi 2 a 0 con la spalla in 10 ultima in classifica io qua nemmeno la maglia mi mettevo addosso perché voi non vi meritavate neanche questo non vi meritavate neanche questo mamma mia veramente sono davvero davvero stanco di vedere sempre le stesse cose sempre le stesse cose sto in un pizzo d'acqua sono le 12 in un quarto lasciando e stiamo ancora dove accammate a pizzo a vero a pizzo a vero non a voi ragazzi a vero e quattro fatuo dei scioccolato a voi giocatori a voi giocatori volevo salutare un po di persone ma veramente forse non è il caso di farlo dopo una una partita del genere lo faccio domani con un pochino di calma in più perché questa gente qui che mi ha mandato dei bei messaggi non merita questo tipo di video per essere salutato ok quindi cari ragazzi ci sentiamo alla prossima ogni c'è mafe è andata così non lo so no io non mi sento di dire che questo è un punto guadagnato perché sono due punti buttati all'aria come al solito perché non si può andare a fare a perdere punti con con squadre di questo genere qui squadre che veramente non manu zero totale zero assoluto io vi saluto non so se non mi voglio fare perché mi voglio queste due parlare con voi mi voglio sfuggire con voi mi voglio sfuggire con voi vabbè va ciao ragazzi ci vediamo alla prossima